...per l'uguaglianza dei diritti di tutte le persone. Sì, per l'uguaglianza dei diritti di tutte le persone. Come dico sempre a tutti quanti, l'uguaglianza non è qualcosa per la quale si dovrebbe lottare, perché in realtà dovrebbe essere una cosa innata, purtroppo non è sempre così. I diritti civili non dovrebbero essere successivi a una battaglia, purtroppo invece in Italia in questo momento è così. Quindi lottiamo per i diritti civili di ogni persona, perché amare, poter avere una famiglia è un diritto innato di tutti noi e non deve essere negato a nessuno, solo perché si è diversi per i canoni più usuali, diversi da chi. Posso fare una piccola premessa. In questa piazza oggi ci sono eterosessuali, omosessuali, lesbiche, transgender, ci sono persone di tutte le categorie. I diritti sono di tutti, diciamolo, e oggi sono attaccati quelli delle persone che vorrebbero formare una famiglia sotto il piano giuridico e non lo sono. Una volta erano attaccati, ad esempio, le persone di colore, ci sono state le battaglie delle femministe per il diritto alla donna ad avere un voto o anche la situazione del divorzio, parliamoci chiaro. Il diritto che oggi interessa una minoranza, per così dire che poi minoranza non è, può interessare chiunque. Può e deve interessare chiunque. Non solo gli uomo affettivi devono manifestare oggi, perché questo non è una cosa che riguarda solo loro. Allora a questo punto tutti quelli che fanno parte di un'associazione devono essere per forza nel modo di quell'associazione. Io sono di Catanzaro, sono la tesoriera dell'Arcigèi di Catanzaro. Diciamolo, come si chiama? C'è il frenice Catanzaro. Quando siamo usciti sui giornali perché ci siamo costituiti, abbiamo fatto scalpore. Perché? Perché quest'anno il Presidente ed io siamo due eterosessuali. E hanno detto, ma come? Non sono cose che vi riguardano, ci riguardano. Perché essere civili, essere persone intelligenti è una cosa che riguarda tutti. E bisogna tutti scendere in piazza perché riguarda noi, i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Siamo noi gli esseri umani, siamo noi il popolo italiano e dobbiamo avere la forza e il coraggio di lottare per i diritti di tutti. Perfetto, io ti ringrazio della tua testimonianza, ti auguro buona manifestazione e soprattutto a questo punto che persone, indipendentemente dal loro sentire, vengono a Catanzaro nella vostra associazione a farsi avanti. A farsi avanti, vi aspettiamo, venite, avvicinatevi. Non solo chi è omoaffettivo, tutti quelli che sentono il bisogno di dire io ci sono e sono per la parità dei diritti. Grazie. 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 Grazie.